Questi momenti, queste adorazioni eucaristiche ci danno la possibilità quest'anno, in questo anno pastorale, di prepararci alla prossima GMG, che significa in altri termini Giornata Mondiale della Gioventù, che sarà celebrata nel prossimo mese di agosto. E questo ci ha dato la possibilità, proprio a partire dal tema che Papa Francesco ha voluto per questo appuntamento, che è legato a una espressione del Vangelo di Luca, Maria si alzò e andò in fretta, ponendoci l'icona di Maria, che subito dopo aver accolto questa proposta che avrebbe cambiato non solo la sua vita, ma il mondo intero, a cominciare dal suo corpo che accoglieva il Figlio di Dio, si alza e comincia la sua corsa. Sapete, quando si parla di vocazione, in senso lato, cioè quello che il Signore vuole da noi in definitiva, la penso un po' in questo modo. La prima difficoltà è ovviamente capire che cosa il Signore in realtà desidera della nostra vita, nella nostra storia e lo immagino come un gomitolo, un po' disordinato, dove addirittura inizialmente è perfino difficile trovare il bandolo della matassa. E lo giri e lo volti, cerchi di capire da dove in qualche modo tirare questo filo che ci dà la possibilità poi dopo di ricominciare un altro lavoro. Ecco, per la Madonna è accaduto qualcosa di simile, proprio il momento dell'annunciazione è stato il momento in cui lei stessa ha colto questo bandolo della matassa, ma non avrebbe senso averlo scoperto, finalmente averlo fra le mani, se poi dopo non si comincia questo lavoro, di tirarlo fino in fondo per capire dove ci porta, la stessa cosa vale per ciascuno di noi. Così abbiamo in qualche modo pensato in questi appuntamenti non solo i viaggi di Maria e quindi questo filo rosso che lei segue, viviamo il tempo della Quaresima, questo filo rosso che lo porterà fin sopra al Calvario e oltre. Ma per certi versi abbiamo voluto anche, in qualità della pastorale giovanile della provincia di San D'Angelo e Padre Pio, un po' ripensare, riseguire i viaggi di Padre Pio. Siamo qui a Campobasso non a caso, è uno dei luoghi, è una delle città che ha visto la presenza. Padre Pio era poco più che un ventenne quando è arrivato qui, nel mese di maggio, si è fatto tutto il mese di maggio del 1905, se non erro. Sapete, per i frati spostarsi non è una cosa semplice, quando si parla di un viaggio, di un movimento, è qualcosa di particolare. Noi utilizziamo una parola grossa che fa parte addirittura dei nostri voti, cioè i perni essenziali della nostra vita. Quando un frate deve lasciare il suo convento, deve muoversi, credo una volta oltre la croce che veniva posta dinanzi al piazzale, ci vuole l'ubbidienza, cioè il permesso che uno va a chiedere al Padre guardiano. Ma questa parola, ubbidienza, è una parola grossa e noi la utilizziamo anche nei viaggi più importanti della nostra vita. Non solo, ecco, quei piccoli servizi, quelle faccende o quelle tappe, diciamo così, molto più limitate nel tempo, soprattutto quando nella nostra vita, ecco, l'itineranza ci porta a passare da una città all'altra, in ruoli differenti, a vedere uffici, servizi, nell'ambito della Chiesa completamente diversi. Questa per noi è l'ubbidienza. E per noi, dico frati, ma in realtà questa parola può essere mutuata nella vita di ciascuno di noi. La volontà di Dio, quello che il Signore vuole. Ma in modo particolare questa sera, trovandoci nel contesto di un convento e soprattutto alla presenza di giovani frati che cominciano il loro percorso di vita umana, fraterna, spirituale, ho pensato che era proprio il tema giusto per questa sera, prima di accogliere la presenza di Cristo nell'Eucarestia. E sapete, Padre Pio ha girato tanti conventi. C'è stata una fase nella quale Padre Pio si è fatto proprio una tournée vera e propria. È stato da quando era prodato in convento il suo primo grande viaggio da Pietrelcina a Morcone. Poi ha cominciato, potremmo dire, per motivi di studio, legato, ecco, dalle motivazioni dove c'erano i conventi che come Campobasso offrivano la possibilità di studiare. E quindi Sant'Elia, come ho detto Campobasso, San Marco la Catola, Serra Capriola, Montefusco, Gesualdo. Ma già da Serra Capriola, proprio lo dico molto velocemente, cominciarono, come voi sapete, alcuni problemini per la sua salute. Le cose si complicarono ancora di più quando andò a Montefusco. Insomma, gli anni della formazione, proprio alla vigilia, potremmo dire, della sua ordinazione sacerdotale, un po' si interrompono, o perlomeno quel viaggio lo portano indietro a Pietrelcina. Per sette lunghissimi anni padre Pio è rimasto lì, lì fu ordinato sacerdote e lì per certi versi si sentì un po' parcheggiato, anche come presbitero non ebbe il permesso di confessare, era molto limitato nelle sue azioni. Poi, come abbiamo già ripercorso in altri momenti, accadde qualcosa di particolare. Ecco, anche questi spostamenti non li chiameremmo motivi di obbedienza, era un po' quello che accadeva per tutti gli altri frati e immagino che anche il giovane Frappio, fiducioso in quello che gli indicavano i suoi superiori, ha compiuto questo percorso con serenità. Poi, come vi dicevo Pietrelcina, da Pietrelcina dopo sette anni, finalmente si apre il cielo per lui, dopo un tempo veramente molto triste. Perché torna in convento? Torna in convento nella fraternità di Sant'Anna, potremmo dire grazie ad una donna, la sua talent scout, Raffaelina Cerase, che finalmente quando può incontrarlo di persona, erano già corrispondenti per lettera, dice a Padre Benedetto, di cui godeva la fiducia, l'amicizia, fatelo tornare in convento e fatelo confessare che farà molto bene, fatelo lavorare. Da quel momento Padre Pio comincia a lavorare e lo dice lui stesso, a Sant'Anna confessa tanto, combatte contro il demonio, compie, comincia a vivere pienamente il suo ministero pastorale. Poi accade un'altra cosa, di lì a pochissimo, nel giro di pochi giorni, nel mese di luglio, Padre Paurino da Casa Calenda, che era il guardiano di San Giovanni Rotondo, si trova a Foggia, a Sant'Anna e vede questo fraticello affaticato per il caldo e gli chiede di poter sostare qualche giorno lì a San Giovanni Rotondo, che è molto più in alto, 650 metri circa, certamente il suo fisico ne avrebbe giovato e così fu. Padre Pio ci vive una settimana, potremmo dire come una gita, come una vacanza, ma lì le cose cambiarono, tanto che dopo solo una settimana, da quella primissima esperienza, Padre Pio ha il coraggio, o prende il coraggio a quattro mani e scrive al Padre provinciale, Padre Benedetto, chiedendo di fatto di tornare a San Giovanni Rotondo e lo scrive con queste parole, il 13 agosto, ora del 1916, ora vengo a chiedervi una carità, la carità che desidero da voi, Padre mio, si è di mandarmi a passare un po' di tempo, non dice di essere completamente cambiato, di essere indirizzato lì definitivamente, ma un po' di tempo, in San Giovanni, dove Gesù mi assicura che starò meglio. Detto fatto, Padre Benedetto non se lo fa ripetere due volte, il 17 agosto, veramente c'è un'accelerazione della vita anche di Padre Pio, gli dà l'ubbidienza. Il 4 settembre dello stesso anno si ritrova membro effettivo della Fraternità di San Giovanni Rotondo con un ufficio tutto suo, è il direttore e il padre spirituale del seminario serafico, è la sua prima ubbidienza, è la prima volta che come frate sperimenta questa cosa bella e lì non dà appoggio, non perché non sta bene, non perché, no, perché deve vivere il suo ministero, sa e riconosce in quella ubbidienza, pure in qualche modo potremmo dire proposta da lui timidamente, riconosce nella volontà del suo provinciale la volontà di Dio, è felice, è contento. Tanto più per gli storici, una ragazza di soli 17 anni, 10 anni prima che tutto questo accadesse, Lucia Fiorentino aveva avuto un sogno premonitore, una sorta di profezia che lì a San Giovanni Rotondo sarebbe arrivato di lì a poco un giovanissimo frate e sarebbe stato per quella città come un albero, inizialmente giovane, piccolo, che sarebbe diventato sempre più grande e avrebbe raggiunto con le sue cime anche dei confini enormi. In questa immagine la stessa Lucia Fiorentino riconoscerà successivamente la presenza di Padre Pio. Ma per tornare a noi e a questo mistero grande della ubbidienza, vedete, Padre Pio non ha accolto come un soldatino questo passaggio importante della sua vita, questo viaggio importante, la sua prima tappa della sua storia sacerdotale. Lui l'ha proposta con timidezza e con fiducia e poi è arrivato un sì. Questo avviene nella vita di tutti quanti noi. C'è una espressione che talvolta noi utilizziamo e dico queste parole in un tempo, in giorni, in settimane, in cui di fatto noi frati, chi ci vuole bene, chi ci sta accanto, sa bene di che cosa sto parlando. Abbiamo dappena in questa provincia religiosa eletto il ministro provinciale e ora tutti noi siamo in attesa che lui e il definitorio, i suoi consiglieri, in qualche modo indirizzino tutti i frati verso nuove destinazioni, nuovi uffici. E tutto quello che stiamo compiendo in questi giorni, lo compiamo con questa consapevolezza che non siamo padroni di niente e noi tutti timidamente anche immaginiamo luoghi diversi, situazioni, persone da incontrare e con le quali continuare a realizzare la nostra vita di uomini, di frati, di sacerdoti, di francescani, di religiosi. E tutto questo è un passaggio straordinariamente importante, non è una cosa banale, scontata, perché porta sempre, potremmo dire, degli strappi, talvolta delle delusioni. È facile leggere in tante decisioni, anche da parte dei superiori, potremmo dire delle storie umane, delle situazioni che ci sembrano, diciamo così, dalla facile lettura, anche lette in modo, potremmo dire, cattivo, anche nel nostro contesto, seppur animato dalla nostra vocazione francescana. Sapete, nella mia vita vi confesso che ho visto con fratelli, illustri, persone molto colte, cerebrate, che quando arrivava questo momento si rivelavano in tutta la loro fragilità. Nessuno, quando si arriva, potremmo dire, a vivere questo tipo di esperienza, esperienza può manifestare la sua sicurezza, nessuno di noi può essere spavaldo, perché siamo persone, siamo fragili, abbiamo le nostre paure e i nostri dubbi. Eppure, proprio, ecco, in questa occasione, forse più delle altre, e per tutte le altre virtù e tutti gli altri voti, proprio in queste occasioni, noi frati, diciamo a noi stessi, prima ancora che a Dio e ai fratelli, quanto veramente amiamo la nostra vocazione. Ecco, la stessa cosa, torniamo nella vita di Padre Pio, la stessa cosa è avvenuta per Padre Pio, perché dopo questo primo passaggio, questa cosa bellissima che lui ha vissuto quando finalmente è arrivato a San Giovanni Rotondo, ed è entrato nella storia anche di quella città, questo effetto non è durato tantissimo, l'itineranza vale per tutti e anche per lui, tanto che dopo pochissimi anni, e in modo particolare dopo l'impressione delle stimate che ha raccolto l'attenzione del mondo intero e della Chiesa e dei superiori da Roma, già nel 1921, la congregazione, una volta si diceva del Santo Uffizio, oggi la congregazione della Dottrina e della Fede, già cominciava a pensare ad un trasferimento di Padre Pio, di lì a pochi anni, due anni dopo, precisamente il 10 maggio del 1922, ufficialmente quella stessa congregazione ne chiede il trasferimento, Pio XI, il Papa in atto regnante, ne ratifica il documento, altro che provinciale, qui c'era il Papa in persona, che chiede a Padre Pio di andare oltre, di fare l'ubbidienza, di proseguire il suo cammino in un luogo diverso, noi sappiamo quanto Padre Pio avrebbe dato l'anima per obbedire al Papa, ai suoi superiori e per vivere questa sua dimensione di frate, frate Francescano itinerante, sappiamo com'è andata, sappiamo quanto il popolo di San Giovanni Rotondo fu più caparbio del Papa stesso, perché fece da cintura intorno a Padre Pio, non volle in nessun modo che fisicamente Padre Pio potesse lasciare quel luogo, eppure per lui furono date perfino delle indicazioni, sapete anche noi, proprio in questo periodo, pensiamo alle possibilità reali e anche nei luoghi dove potremmo anche vivere la nostra vita, e il nostro vero curriculum alla fine, quando un giovane ci racconta ma dove sei stato, dove hai vissuto, è bello per noi raccontare i luoghi che hanno segnato le tappe più importanti della nostra vita, e Padre Pio sapeva bene che alcuni luoghi possibili dove lui poteva andare, perché erano stati detti anche, addirittura si parlò della Spagna inizialmente, Ancona, l'arcivescovo di Loreto, chiese espressamente che Padre Pio fosse trasferito nella Santa Casa di Loreto, immaginatevi Padre Pio a Loreto, magari c'è stato in un altro modo, poi ci fu addirittura un monsignore, un certo Alessandro Macchi, che era stato amministratore apostolico a Manfredonia, subito dopo Monsignor Gagliardi, che addirittura pensò di metterlo in macchina e di portarlo in Svizzera, vi ho detto solo alcune delle destinazioni, tanto perché la nostra fantasia possa così un po' sollecitata, essere sollecitata, Padre Pio in Svizzera, in Spagna, a Loreto, a Milano, so che Paolo VI quando era arcivescovo di Milano avrebbe desiderato Padre Pio proprio lì, in quella città, e tanti altri luoghi, ma Padre Pio fisicamente, come noi sappiamo, non è più partito, di lui si sa che una volta ha detto che se proprio dovessi partire preferirei andare a Monte Fusco, un bellissimo convento non lontano da Piedrelcina, ma questo desiderio lo portava con sé, ma lui era un frate e la regola è questa, niente chiedere e nulla rifiutare, e così ha accolto nella sua vita quella che poi alla fine fu definita come la volontà di Dio, l'ubbidienza, fino all'ultimo giorno della sua storia. Voglio concludere, concludo con questo passaggio tratto dal capitolo decimo delle nostre costituzioni al numero 166, dove c'è questa espressione che, ripeto, può illuminare noi questa sera, noi frati, ma illumina tutti coloro che sanno che la fede ci porta a camminare, a fare sacrifici, a guardare sempre oltre, a fidarci di Dio, ed è quello che noi in modo particolare vogliamo augurarci per tutti i giovani, in modo particolare per coloro che sono diretti verso Lisbona. Dicono così le costituzioni, e chiudo, e se qualche volta un frate, dopo un dialogo fraterno, vede cose migliori e più utili di quelle che il ministro li comanda, sacrifichi a Dio volontariamente le sue, e di fatto si impegni ad adempiere con l'opera quelle del ministro. Questa è infatti l'obbedienza caritativa che soddisfa Dio e il prossimo. Ecco, auguro a ciascuno di voi, giovani frati in modo particolare, che possano partire per il loro lungo e fruttuoso viaggio spirituale, francescano e pastorale, esattamente con queste intenzioni, perché sono sicuro che come la Madonna arriveranno davvero lontano.